Per l'ultimo match della stagione, al Palatagliate contro Ragusa, la squadra femminile di basket Lemura chiede alla città un'ampia partecipazione dei suoi tifosi. Noi stiamo assistendo ad un afflusso che non è esattamente quello che ci aspettiamo, probabilmente condizionato dalle perplessità di recarsi in posti affollati, è però altresì vero che lo sport ha bisogno del pubblico. Per spingere questo noi abbiamo deciso per la gara di domani contro Ragusa di aprire le porte gratuitamente a tutti i minorenni, sperando che questo possa portare ulteriori famiglie a vedere la partita. E sperando in un afflusso finalmente adeguato abbiamo anche avviato la consuetta collaborazione con Croce Verde per il banco alimentare, quindi tutti possono portare generi di prima necessità prevalentemente alimentari che noi poi metteremo a disposizione di Croce Verde. In una stagione iniziata non proprio con il piede giusto, due sconfitte nelle prime due partite con la rivale Schio e contro la corazzata Venezia, le ragazze hanno rialzato la testa, piazzando un buon numero di risultati utili consecutivi. Domani alle 20.30 toccherà Ragusa. Attendiamo l'ultima giornata di questa stagione mercoledì con Ragusa che è sicuramente una squadra tra le favorite allo Scudetto e cercheremo di vendere cara la pelle in casa per il nostro pubblico cercando di giocare al nostro paracanestro. L'obiettivo è stato raggiunto che è la qualificazione della Coppa Italia che è sicuramente un evento, una manifestazione importante ed è stato bello esserci perché vuol dire comunque che la squadra fin dall'inizio ha avuto una sua competitività. Nell'ultima partita con il Ragusa, il 17 gennaio scorso, le ragazze delle Mura furono sconfitte sul difficile parche del Palaminardi per 82-63. Domani vedremo se a Lucca sarà tutta un'altra storia. Domani vedremo se a Lucca sarà tutta un'altra storia.